In un periodo difficile, soprattutto per l'economia del territorio, abbiamo inteso, in sinergia con le associazioni di categoria, ragionare una campagna che potesse in questo periodo essere a sostegno delle attività locali. Molto spesso, soprattutto in questo periodo, è uso da parte dei cittadini, servirsi delle piattaforme nazionali e internazionali. In questo periodo, invece, più che mai c'è bisogno di sostegno da parte dei cittadini, soprattutto per quello che riguarda il tessuto economico cittadino. Per questo motivo, dopo aver illuminato la città nei giorni scorsi a dovere, in un periodo come quello che stiamo vivendo, è importante dare anche un po' di speranza e quindi le luminarie volevano servire soprattutto a questo, abbiamo commissionato un video che verrà proposto sui social, proprio intento per incentivare l'acquisto da parte dei cittadini sul nostro territorio, a sostegno appunto delle attività commerciali. Vero è che il periodo, non sappiamo, è pieno di incognite, però nel momento in cui si potrà fare degli acquisti, ecco, è bene farli sul territorio. Sul Monte Silvano si può trovare di tutto, ci sono tanti ottimi negozi, tante belle attività e quindi perché servirsi di piattaforme esterne al nostro territorio. Se vogliamo sostenere anche le nostre famiglie, perché poi, diciamocelo, le nostre attività sono rette da famiglie dei montesilvanesi, dobbiamo assolutamente farlo acquistando sotto casa. Noi abbiamo fatto le nostre campagne promozionali, sul lungomare ci sono dei manifesti, ma detto questo ci auguriamo che questa pandemia finisca al più presto e torni la vita normale. Però io credo che questo possa dare un contributo all'aspetto sociale, all'aspetto umano e possa aver trovato la soluzione per far riscoprire alle persone che il contatto umano, fare un acquisto sia a un momento di un contatto umano, è diverso da un contatto elettronico. Lo dico perché dobbiamo rifavorire la comunicazione, dobbiamo favorire lo scambio, le battute. Anche quando noi facciamo spesa, che andavamo con i nostri genitori al mercato, la mamma diceva quanto costa? E lei rispondeva costa 10. Questa trattativa di dialogo comunque era un momento di grande socialità. E il cliente per il commerciante è sagro, perché trattare bene il cliente significa trattare bene la sua attività. Il motto è tornate nei negozi sotto casa, superiamo questo momento triste, che ce la faremo. Dobbiamo pensare ai nostri negozianti, ai piccoli artigiani che producono, e quindi in questo momento particolare gli androidi sono ridotti, quindi dobbiamo fare in modo che i cittadini di Montesilvano acquistino dalle nostre piccole aziende che stanno su tutto il territorio.